No da Lollo e Papi. Ciao, saluti da Canner. Oggi facciamo un girettino in bici. Dove l'ho posto? Su Lollo e Papi, no? Biciclette. Questa è quella di Stefano che gliel'abbiamo rubata. Invece questa è quella di Lorenzo che la prendo in prestito io. Andiamo via, vediamo se ci riesco perché veramente dovrei attaccarla. C'è una giornata bellissima, mi sento un po' freddo. Ti guarda, ti prendo. Ah no, ti riprendo, ti riprendo. Mi ricordo. Mi sento da montello. Aspetta a fare la musica. Guardate che pentacolo, quali sono i castelli in Cannero. Anche se sono più perso che nobbio. Spero di non cadere perché non vado in bici. Vento, non mi venire addosso. No, che mi cade. Allora, ci fermiamo lì nel Portigiole. È una giornata fantastica. C'è pochissima gente. Qui si popola quando inizia la stagione. In inverno ci sono solo i residenti. Guarda che bello, ci sono gli hotel che per ora sono alcuni aperti e alcuni chiusi. e ora dove vai? Non c'è sboccoli. Vieni di qua, vieni di qua. Un mulinello. Andiamo a vedere un po' che c'è. da riprendere qui. C'è anche abbastanza da andare a passare vela. Dobbiamo prenderla una prima o poi. Anche una così. E che vuoi di più? Cosa vuoi di più? Una casa in Miami. No, quale è Miami. Cago Maggiore. Cannero Riviera. Ehi. Cosa vuoi? Ecco la bella casettina. Con due o tre milioni per la rida compri. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? L'asido. Dai continuiamo la nostra passeggiata. Lo faccio io. Ma io ti... No, dopo. Si sta registrando. Ciao amici. Benvenuti. Sono qui. La notte. Non so che canale. Su che canale? Oggi andiamo a fare un direttino. Bye. Sul canale miolagomaggiore.com Ok. Ciao. Anzi, con l'occasione vi invito a visitare il sito mio lagomaggiore.com che sto realizzando. Magari metteremo video così. Mandati dalla gente. Ciao. Vabbè? Tu, tu direi qua. Com'è? Com'è? Lo vedrai. Guardate le bellezze di questo posto. Ho! questo è l'apimag sono delle le mulchimpe proprietà per iambi qui siamo sul ponte sul fiume quello è il monte Morissolo circa 1400 metri di altezza alla vetta e qui è la spiaggetta dove veniamo solitamente per una bella stagione questa è la pizzeria dove veniamo abitualmente visitate lago maggiore questo invece è una piccola libreria gratuita come dice il pay off lo slogan prendi leggi e scambia in tedesco troviamo libri che ci piacciono soprattutto ci sono anche in tedesco perché la maggior parte delle persone vengono dalla Germania dalla Svizzera tedesca poi magari riguardiamo dopo ora vi faccio vedere dove Lorenzo fa scuola fa scuola di canottaggio fai vedere tu dove fai canottaggio che è notaggio allora va bene va bene va bene mamma guarda che senti una scuola molte persone oltre l'incontro vengono qui dalla base da Cannero sul lago e fanno escursione e vanno su fino al Morisolo che come ho detto è a 1.400 metri non correre non correre vuhuuu bene nella bellezza del lago maggiore precisamente da Cannero riviera su una bicicletta non salivo da un bel po' come dicevo è tutto visitate lago maggiore visitate mio lagomaggiore dot com